Nota al pubblico per le sue installazioni sonore, l'artista canadese Janet Cardiff realizza nel 2001 Forty Part Motet, una rivisitazione della straordinaria opera rinascimentale Spem in Alium del compositore britannico Thomas Tullis. Questo capolavoro in 40 parti è suddiviso in otto cori da cinque voci ciascuno, un soprano, un contralto, un tenore, un baritone e un basso. L'installazione consiste di 40 altoparlanti disposti in una stanza vuota a formare un'ampia ellisse. Ogni altoparlante emana la voce di un singolo membro del coro, che è stata registrata separatamente. Se al centro della stanza tutte le voci sono udite all'unisono, formando un'unica armonia, muovendosi liberamente nello spazio e avvicinandosi ai singoli altoparlanti, lo spettatore può avere una percezione sempre diversa della performance ed apprezzare ogni singola voce di questo canto polifonico.